40 le imprese controllate, 20 quelli che presentavano irregolarità per la mancata emissione di almeno un documento fiscale, 4 gli evasori totali e abusivi che dovranno rispondere pure della mancata installazione del misuratore fiscale. Questo è il bilancio del piano di controllo contro l'abusivismo e l'evasione fiscale messo in campo dalla Guardia di Finanza nella settimana dedicata alla commemorazione dei defunti. Controlli a Tappetuen, tutta la provincia, nelle zone vicine, ai cimiteri cittadini, nel mirino delle fiamme gialle ai venditori ambulanti, sia itineranti che con postazioni fiste di fiori, cieli, candele e lampade votive. L'operazione è stata sollecitata e sostenuta dalle associazioni di categoria che hanno espressamente richiesto l'intervento dei finanzieri al fine di mettere un freno alla vendita abusiva di fiori davanti ai cimiteri in prossimità della ricorrenza del giorno dei morti. Il controllo degli scoltrini fiscali è un'attività fondamentale per le fiamme gialle che dall'inizio dell'anno ad oggi hanno effettuato 2250 controlli e constatato 909 violazioni.